quant'è che avete perso? un milione e otto professore hai capito professore? un milione e otto non c'è nessun messaggio e me coglioni un milione e otto che dici ha imboccato? a voi si è imboccato lo vedi lo dice pure al professore e poi cantò ma che c'è famo con un milione e otto? dice che c'è famo? ma chi ha mai visto un milione e otto? dice che c'è famo voglio ammazzare i murisi carurosi cantò noi devo buttarmi all'oppo taglierai il tappellino tuo io ti portavo via tutto io ti portavo via questa vecchia ma che io mi portavo via con quella capoccia che ti ritrovi? e voi? che stai a fare con i piedi? forza andate a dormire guarda che domani c'è il funerale e il morto un po' mi ha aspettato è mezzanotte ma io stavo a lavorare mica sto a mangiare oh ragazzi che è questa mancanza di rispetto? che sono questi grugli? la volete piantare sta sempre a criticare ma avete capito che l'unica salvezza nostra è la vecchia? sono 10 anni che pegue il cal chewy questa è la matematica non è più opinione piècini qua che papà vi devi dare una cosa vedi Cesarito eh? noi viviamo in una baracca abusiva pieno di sorci anche? ma che ti credi che ciò lo sa papà? che ti credi che ciò lo sa che ogni volta che piove ci vengono a piedi i pompieri in barca ma nonostante tutto voi dovete avere una grande fiducia in papà e mamma papà e mamma fanno tutto per voi per tanti anni ci è andata male e se una volta ci va bene e prima o poi dovete succedere? lo sapete che fanno? a quella vecchia noi ci portavo via sette, ottocento milioni e sai che fa papà? vi compra un appartamento con grande terrazzo e vi mando all'università no almeno no e poi mi metto in grande rilevo il magazzino del marocchino con il garage a montagna di stracci e il capannone ti piace l'azienda del marocchino? l'azienda si ma il marocchino no e quello lo licenziamo no? a cesarica eh? eh che lo fa? ma che lo fa? e ridi a papà eh? che stavolta quanto è vero di io papà ti fa giusta qua la gamba matta mica no eh? eh no professore i biscotti sono più i nubi eh? ma ti rispette ma che...